Au! Senti, il dolore vero è così. Credi che sia al sicuro lì con quel tipo? Sta benissimo. Signore, se non si calma dovremo immobilizzarla. Ah, sei sicuro? Signore, stia con questo. Che vado tutto bene. Chiama la sicurezza! Signore! Signore! Oddio, si trasforma in Hulk. Sicurezza! Signore! Un grammi di aloperidolo in tramuscolo. Devo difendere la mia casa! Chiamate qualcuno che ci aiuti! Ehi! Ehi! Aiuto! Hanno bisogno di aiuto. Devi immobilizzarlo. Ci provo! Tienilo fermo! Non ce l'abbaccio! Siamo un popolo gentile che ama l'avventura. Siamo un popolo gentile che ama l'avventura. E quando la troviamo diventiamo... Mi fermi! Fermo! Eroi! Non posso stare qui! Qualcuno lo fermi! Mi scusi, signore. Lei deve calmarsi subito e smetterla di... Vaffanculo! Dov'è? Qua dietro. Prenota la sala 2 per commozioni e mascella fratturata. C'è un paziente con la mascella fratturata. Fra poco sì. Vado. Ehi! È vero che hai preso a pugno uno? Shepard, mi serve un consulto. Perché hai preso a pugno uno? Ho sentito bene. Hai preso a pugno uno. Ebbene, sì. Ho dato un pugno a un paziente che minacciava l'incolumità delle mie infermiere, dei miei specializzanti e di altri pazienti. Sai di essere il primario e non lo sceriffo, vero? Immagini negative. Grazie. A tutti voi, davvero.